confonderò la testa agli uomini non capiranno più nell'estate dall'inverno nel giorno dalla notte nei vivi dai morti non vi farò capire più niente questo discorso come inizia la mitologia greca che gli dei cacciano i titani vale a dire i figli uccidono i padri qua tutto il contrario i vecchi la mettono in cura i giovani non è possibile mi sta facendo impazzita questa camicia l'ho buttata non ce l'ho la camicia ogni giorno ogni giorno mi ripeti la camicia la camicia non ce l'ho ma poi a chi ti serve questa camicia la motrice questa motrice mi ha attirato mi ha preso la cunetta e mi sono andata a ficcare dentro a casa e proprio l'ho scopercata la casa si vede che sta cambiando il tempo ma poi perché non pari tu? ti serve questa? la vostra Grazie a tutti.